Ben trovati, seconda parte di Linea Verde Sport Basket, non so Massimo dovremmo avere qualche immagine di qualche annetto fa probabilmente per rompere un po' il ghiaccio di argomenti troppo seri con i quali siamo arrivati al time out, c'è l'ottimo amico e collega Peppino Gliavarone che seguiva in trasferta la squadra in quelle annate magiche mentre noi qui da studio facevamo le dirette, non vedo l'avvocato Montella in questo gruppetto di amici, sarà una riunione seria, sono passati una ventina d'anni, questo era maggio 2000? sì, 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 maggio 2000 vedo Nicola De Vizia giovanissimo, è bravo, è un bambino, sì, ma chi? Nicola o io? no, Nicola o io sono più migliore ti sembra lo smile a dei poveri questo è il famoso cappellino di Di Mangioli, dovremmo avere una panoramica insomma, questa era una serie importante insomma perché noi il primo anno affrontavamo e quasi battevamo la Virtus di Rigodoggi, Nobili e Griffith se non ricordo male, arrivamo a un passo dai playoff questa è la squadra della promozione questa è la squadra della promozione, io infatti mi riferisco al primo anno di A1 il primo anno di A1 ricordo quando... già stendo ancora associata come una famiglia però insomma sì, assolutamente perché eravamo veramente tutti quanti assieme è vero senza distanza, con un confronto bello, costruttivo, leale c'era praticamente un incontro proprio compiuto delle varie componenti che secondo me determinano un successo cioè società, squadra, sostenitori, supporters, staff, stampa e allora veramente si remava tutti quanti in effetti in una... le 5S praticamente tutti quanti si... perché c'era questo entusiasmo derivante dal fatto che nessuno avrebbe mai pensato nella vita che la Scandone Avellino insomma potesse arrivare in Serie A partendo tra l'altro da campionati veramente... ecco diciamo tutti vinti sul campo peraltro tutti sul campo già la 2 ci sembrava un miracolo faccio una direzione e l'Avellino Calcio sta verificando quanto è difficile vincere i campionati perché anche l'altro Avellino, quello lì praticamente che poi non ha partecipato al campionato di Serie B sul campo ha vinto un solo campionato poi è stato sempre ripescato invece vincere sul campo vi garantisco che è molto più... è molto più bello tra l'altro un paio di campionati li ha vinti anche Montella come giocatore negli anni 80, inizio anni 80 quando giocavamo ancora alla tendostruttura di... sì, campionato di Serie D in C se non sbaglio vabbè ma fu uno dei più grandi acquisti che Menotti ha fatto cioè... voglio dire, se tu devi valutare... dopo Vanterpool ma siamo là io e Vanterpool è bello però ti ringrazio Raffaello ci ha fatto vedere immagini stupende però secondo me è un... per mancanza di tempo e tecnologia questa è la punta qua speriamo tutti questa è la famosa 25 maggio 2000 mi pare gli eroi che raccontano l'impresa no, è bello, bello, bello tra l'altro io lo dico sempre personalmente ringrazierò la Scandone a vita perché vivere delle esperienze emozionanti di quel tipo a 40, 50 anni è un avvenimento cioè sono cose che riesci a apprezzare di più a 15, 20, 30 anni quindi questo non è però ti ripeto, tornando al discorso di prima quella era una cosa era un modo di gestire forse anche dettato dalle necessità perché se c'eravamo noi è perché non si avevano le risorse necessarie per affidarla a dei professionisti io penso però che il meglio sia sempre nel mezzo cioè se tu vuoi vivere un'esperienza sportiva importante in una città di provincia devi usare entrambe le metodologie devi avere le massime professionalità probabilmente l'attuale Scandone le ha e devi però mediarle con come dire con un qualche cosa che possa creare un collegamento maggiore con con la città con diciamo con l'ambiente e con tutto però penso siano due realtà completamente diverse e per certi aspetti non non paraguano dove stiamo qua? questa è la cena post partita la famosa cena post partita che costò un occhio a Nicola De Vizia ricordo perfettamente ma qua è Ancona sì ah sì Piero Cohen ci portò praticamente sì 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 bene noi tagliamo un po' queste immagini bellissime anche se sarebbe bello rivedere tutta la puntata per fortuna il Pina TV si pregia di avere un archivio fantastico non solo di sport naturalmente avendo seguito il basket veramente ma dopo quella cena ricordo il ritorno da sempre il ritorno in macchina io e Montella perché io e Montella praticamente dopo ogni trasferta che facevamo tornavamo con la mia macchina andavamo sempre e io devo guidare perché non riesco praticamente a stare a fianco ma Montella gradiva molto questa cosa perché Montella dopo dieci minuti dalla partenza cominciava a dormire e un quarto d'ora prima praticamente di arrivare a Tavellino mi diceva vuoi cambiare qua un po' verso Monteforte praticamente sapete che Menotti le prime due ore di macchina quando finiva una partita e quindi tornavamo verso Tavellino da dovunque eravamo le passava a telefono ed era una cosa tremenda cioè mi sembrava la Dea Cali teniva sei mani o sterze in marcio o telefono la mandatura diventiva dal risultato no però ti ripeto io penso che quello sia poi il vivo questo sarà anche uno dei motivi per cui uno dopo riesce a vivere o a non vivere più questi momenti perché avendoli vissuti in un certo modo fai fatica poi a resettare e interpretare questo mondo in un modo diverso cioè noi era quello cioè era una parte importante della nostra vita piacevole ma importante sicuramente della nostra vita senza dubbio adesso c'è sicuramente più distanza chiaramente ma l'avvocato ce l'ha spiegato chiaramente che le due cose non sono paragonabili per tanti motivi diciamo di tempo anche di budget e quant'altro insomma siamo proiettati in un'altra dimensione almeno sul campo ci dice giustamente il dottor Sanpilippo perché fuori insomma oddio vediamo nella grafica i risultati di quella che è stata la ventiduesima giornata del massimo campionato stiamo rapidamente entrando nell'ultimo pezzettino di stagione c'è stato il colpo agevole di Torino di Bologna a Torino 64-80 un'altra vittoria per il neore allenatore Giorgiovic seppur con un calendario agevole Milano Venezia Milano insomma giochicchiato ma Venezia è stata brava a rientrare recuperato a 9 punti negli ultimi minuti sempre un po' audace e fortunato 86-87 con un tap-in di Bramos sulla sirena facile Varese su Cremono 83-64 il che impreziosisce ce l'ha ricordato anche il dottor Sanfilippo in apertura la vittoria della Scandone della settimana precedente Pesaro che continua a perdere 72-80 con la sorpresissima Cantù Trento non si ferma più 82-75 su una buonissima Trieste Pistoia che si butta via avrebbe fatto un colpo salvezza incredibile invece perde ai supplementari in casa con Sassari 82-90 con un super pier passeggiata di salute corroborante di Avelino su Reggio Emilia 91-59 e non vi fate ingannare dal punteggio perché questa partita da Brescia a Brindisi è arrivata al supplementare con Brindisi che l'ha buttata via e Brescia che ha un distacco record per un overtime 97-80 per una classifica che vede Milano sola in vetta che chiaramente giocherà in controllo e punterà sui playoff di Eurolega stavolta veramente alla portata gli mancano due vittorie l'Armani è settima in Europa Venezia 32 oramai seconda Cremone da Avelino a 28 sarebbe cosa buona e giusta magari per la Scandone scalare in terza posizione e come dire finire nella parte bassa del tabellone volendo essere ambiziosi Varese e Brindisi a 26 Cantù a 30 a 24 al momento queste sembrano nei playoff anche se Cantù a mio avviso rischia ancora qualcosina Bologna e Trieste a 22 Sassari Brescia a 20 e poi queste quattro si giocheranno l'unittimo posto insomma una sola va in Lega 2 poi dall'anno prossimo sapete ci sarà la riforma dei campionati Serie A a 18 squadre con due retrocessioni Pesaro messa un po' meglio a 12 rischia tantissimo secondo me Torino e Dottor Sanfilippo domenica Pistoglia Reggio Emilia con Pistoglia che ha vinto già di due a Reggio Emilia quindi secondo me se vince in casa più due col 2 a 0 uno scontro detto davvero in guai alla Grissibon questo è il prossimo turno ne parleremo tra pochissimo c'è la partitissima Venezia Avellino anche Cremona Milano molto interessante insomma probabilmente Pistoglia Reggio Emilia è una giornata bella è una giornata importante perché chiaramente insomma ci sta lo scontro per la salvezza giù cioè appunto Pistoglia Reggio Emilia che può determinare tante situazioni in questo momento Reggio Emilia io la vedo la peggiore di tutte perché Pistoglia comunque il roster l'ha migliorato un po' ma anche Pessaro secondo me non bisogna immaginare che possa essere indenne da insomma da pericoli perché per due motivi il primo perché comunque il roster non è straordinario il secondo perché Boniciolli è alla sesta sconfitta consecutiva dopo praticamente in proporzione ha fatto meno vittorie rispetto al precedente cessore Galli e diciamo per l'esperienza so che in effetti in centro entrambi con due colpi di biliardo peraltro esatto anche per la verità anche due in maniera abbastanza però diciamo che emotivamente non è la persona proprio più serena del mondo la più stabile del mondo diciamo così diciamo che non è che questa cosa può determinare può influire anche sul contesto generale poi per quanto riguarda viene da ridere perché penso ai vecchi tempi diciamo così per quanto riguarda invece le altre partite sicuramente insomma Venezia-Vellino è una partita molto importante il big match speriamo di poter andare al completo perché al completo secondo me anche se Venezia come al solito al solito denota una solidità abbastanza importante ho letto anche che Casarin ha dichiarato che loro sono vigili sul mercato in genere l'innesto giusto lo fanno lo fanno quasi sempre loro cercano un 3-4 perché se è fatto male Washington ah Washington si è fatto male quindi va beh poi Dey non sta rendendo diciamo per il turnover stagliere in ala mentre invece io mi preoccuperei in ottica playoff di Bologna che ho visto il primo quarto ho visto soltanto la partita a Torino e mi ha veramente impressionato perché tra l'altro Giorgiovic diciamo non è un allenatore è uno slavo di quelli che però ti appende al muro e non è che appende al muro come qualche altro allenatore vigliacco fa cioè appende al muro lo juniores oppure la riserva lui appende al muro il playmaker titolare senza problemi insomma in modo che gli fa capire praticamente che l'aria è cambiata è cambiata è chi comanda insomma quindi questa cosa secondo il mio punto di vista è chiaro che la scelta di Bologna penso che sia in prospettiva futura visto anche il contratto che ha fatto Poliennale Giorgiovic ma sicuramente se riescono praticamente a fare bene già da quest'anno saranno tutti più contenti Bologna mi scusi l'Europa ha accelerato l'operazione sagribante perché loro avevano il terrore per la famosa pressione di perdere il ritorno in casa con Le Mane loro puntano mi dicono dei amici di Bologna tanto sulla Champions perché se passa nel turno con Nanterre lei sa che una delle Final Four è la squadra ospitante potrebbe giocarsi proprio a Baschiazzini secondo me battendo Nanterre Bologna una chance se la gioca ha eliminato Le Mane adesso trova Nanterre tu pensa il cambio allenatore Apoel-Gerusalemme ai Cappatene e poi c'è Bologna sarà anche anzi sarà sicuramente perché chiaramente il tempo a disposizione non era stato straordinario ma il fatto emotivo cioè Le Mane che aveva pareggiato con Bologna l'andata ne ha presi 30 voglio dire al ritorno quindi Le Mane che tra l'altro ha giocato contro Avellino diciamo che le due italiane hanno affrontato la terza e la quarta del giorno della Scandoni il Nismi-Venezia e il Le Mane la Scandoni che aveva 4 match point insomma una giornata la prossima che obiettivamente da seguire con attenzione C'è Cremona-Milano Cremona e beh vabbè Cremona persa sulla sirena a Milano con una schiacciata di Cusmista e beh sai le squadre di Sacchetti sono sempre molto simpatiche da seguire però dici una cosa interessante cioè ritorniamo a quello che abbiamo detto prima cioè a un campionato senza padroni cioè Sacchetti sostanzialmente ci sta dimostrando che in realtà quello che lui sa fare lo può fare se non dovunque in molti posti ed è inspiegabile lo dicevamo prima come cambia da un anno a un altro la geografia del nostro campionato al di là di alcune costanti che possono essere Milano Venezia e mi fa piacere dire anche Avellino però o il recupero di Trento perché un'altra costante sì quella è una costante è un diesel cioè in realtà poi arriva però io fossi come dire un addetto ai lavori mi focalizzerei la mia attenzione proprio su queste circostanze perché è così cioè Cremona che cos'era Cremona sta terza Cremona ha vinto la Coppa Italia cioè voglio dire ha raggiunto le occasioni arrivano tornando al discorso che le facendo bisogna anche saperle cogliere se qualcuno ti butta fuori Milano poi devi essere pronto parliamo di realtà diciamo estremamente labili cioè capace invece poi di dare un segno ad una stagione perché c'è il campionato è piuttosto per tutte perché Milano voglio dire o Venezia ha preso 5 4 su 7 è un po' più costo di battere nelle coppe che cosa ha Cremona che non ha Vellino cioè io su questo mi soffermerei cioè secondo me è importante è importante analizzare questo cioè analizzare questo momento sulla carta molto meno poi c'è l'organizzazione l'entusiasmo l'allenatore torniamo a quello che dicevamo prima cioè noi dobbiamo sulla carta economicamente molto meno eh sì va bene però c'è molto 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 però c'è differenza secondo me c'è l'allenatore che ha fatto tanto ma ha fatto tanto come metodo non valuto non paragono l'allenatore di Avellino e l'allenatore di Coppe cioè proprio quella tipologia allora tu devi decidere che cosa fare devi decidere poi gli addetti ai lavori quindi gli allenatori in relazione al risultato che vuoi conseguire cioè se io debbo spendere debbo avere un budget da prime 4 probabilmente debbo anche avere un allenatore da prime 4 probabilmente noi lo abbiamo però voglio dire non esiste questo tipo di discrepanze e poi continuo a dire secondo me il punto è proprio questo qua quella che al meglio ha interpretato secondo me quello che il mio pensiero è Venezia cioè nel senso che Venezia è una di quelle società che ha compreso che in un contesto storico c'era una possibilità e ha canalizzato le proprie energie economiche per raggiungere un risultato che secondo me prima era impensabile ma si è anche consolidata cioè voglio dire è una società che se dovesse vincere anche quest'anno lo scudetto nessuno potrebbe gridare allo scanto così come lo può vincere Cremona cioè voglio dire alla fine se hai la fortuna che qualcun altro ti butta fuori quella che è la società favorita poi dopo se la giocano tutti e secondo me ci stanno 5-6 squadre che sono più o meno forse 5 4-5 che sono di pari ma ci mette pure Brindisi ma no ci metto Cremona ci metto quelle che poi se arrivano a un certo punto se la giocano non c'è sta niente da fare e questa dovrebbe essere l'esame che una società deve fare per coniugare quello che sono le risorse economiche è un risultato da raggiungere perché ti ripeto Raffaele io io quello che non vorrei mai è che per perseguire un risultato che poi diventa impossibile noi dobbiamo fare la fine di Treviso dobbiamo fare la fine di Siena dobbiamo fare la fine delle Bolognesi eccetera io questo non lo vorrei anche nel basket parliamo di questo famoso rapporto costi benefici di cui si parla in Italia in ogni campo praticamente il ragionamento è chiaro insomma prima di passare a Venezia un po' più sintetico siamo quasi in conclusione perché mi ha accenato prima il discorso difficile con voi volerne approfondare anche con lei insomma la trasmissione che si sapeva andasse un po' lunga ci vorrebbero due puntate abbiamo già detto che la Scandone è una proprietà solida ha un ottimo direttore sportivo che conosce i giocatori e però sembra sempre mancare di qualcosina ecco cosa secondo lei dovrebbe aggiustare modificare la Sidi Cassinitista come società soprattutto fuori dal campo per fare questo famoso step ad alti livelli facendo non volendo proprio guardare Milano ma già le Venezia o le Trento di turno in qualche modo la sicurezza in che senso cioè in che senso cioè io penso che praticamente una società deve in effetti fare le scelte secondo quelle che sono augurandoci che chiaramente abbia le competenze giuste secondo quelle che sono le proprie idee e il proprio come dire appunto il proprio progetto se c'è un progetto se c'è un progetto non può farsi condizionare secondo me nelle scelte dai da tutte quante le tantissime come dire entità esterne alla società faccio l'esempio che ho fatto già in un'altra trasmissione se io decido di prendere un allenatore e ho già il contratto firmato dall'allenatore non mi faccio condizionare da un articolo di stampa dove un giornalista amico dell'ex allenatore parla male dell'allenatore che io avevo già scelto e per questa oppure qualche tifoso dell'ex allenatore va a e allora io non mi faccio è strano perché l'ingegnere De Cesare ci dicono non ascolti nessuno in qualche modo invece questa volta si è fatto un po' magari questo è il problema dell'ingegnere De Cesare l'ingegnere De Cesare secondo il mio punto di vista è molto considerato all'umore della piazza io faccio questo esempio lo faccio sempre questo esempio quando ci salvammo nell'anno di serie A2 di Steve Bart e facemmo poi la squadra all'ultimo momento perché non dovevamo nemmeno iscriverci al campionato che poi vincemmo prendemmo dei giovani prendemmo maggiori prendemmo giocatori bene o male insomma era venuto Bart ad Avellino quindi chiaramente ce l'ho ancora conservata la lettera di un gruppo di tifosi ragazzi per bene i quali praticamente in maniera molto educata e corretta dicevano ma come noi siamo passati ad avere campioni come Bart come Tennis Frank come Tennis Frank e prendiamo Bontella questi giocatori qui però logicamente insomma uno era convinto della scelta che aveva fatto un allenatore come Dalmonte che chiaramente non aveva grandissime esperienze neanche di gestione di prima squadra quindi se uno è convinto della propria scelta deve andare avanti con la propria scelta insomma non può farsi condizionare da chi che sia e noi quell'anno vincemmo il campionato quindi io devo spero che la società di basket ne sappia un po' di più di qualsiasi tifoso giornalista se no è la fine se no è la fine se no se praticamente la società non ha la sicurezza di sapere della 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 propria della propria attività più del tifoso o più del giornalista è un problema e qua parliamo dell'aspetto meramente agonistico poi per fare la serie ci vorrebbe tanto altro poi ci vogliono tutte quelle cose ma neanche a farla apposta quest'anno purtroppo sono venute fuori in maniera anche più evidente perché un discorso come dire della gestione sanitaria della società diciamo che la Scandone da un po' di anni l'ha sempre avuta quest'anno secondo il mio punto di vista ma ripeto poi bisognerebbe anche starci dentro per sapere bene le cose ma così dal di fuori se i messaggi che sono arrivati dalla comunicazione sono veritieri e se non sono veritieri però non si capisce perché poi si dicono bugie ma se sono veritieri e ogni volta si è parlato di distorsioni e le distorsioni durano tre mesi insomma francamente guarda tre mesi una distorsione oppure o ci sono dei malanni un po' più seri che non si sa per quale ragione poi non vengono non vengono come dire resi pubblici oppure c'è una gestione degli infortuni che francamente lascia un po' perplessi insomma ma anche la comunicazione sui giocatori dopo circa tre o quattro mesi si è saputo che Costello si doveva operare dopo quattro mesi dall'infortunio da che dipende secondo lei cioè chi decide di non fare il comunicato o di farlo Costello potrebbe essere stato anche rapito dall'Isis e nessuno lo sapeva insomma però voglio dire cioè veramente è proprio scomparso è stato chiesto tutte le settimane hanno una capacità insomma voglio dire che senso ha tutto ciò cioè creare il come dire il ma c'è la famosa maniera dei cinquestini nel senso che chi decide di non fare il comunicato di farlo di farlo in quel modo non lo so francamente non lo so non lo so cioè Nicol era quasi in campo alle fanerette adesso forse ci dicono da una a quattro settimane che era come un mio amico avvocato che diceva ci vediamo alle sei e mezza otto perché faceva sempre tardi ma non ero io no non era lei è puntualissima diciamo ci manca un mese diciamo sarebbe una straordinaria strategia di come dire di pretattica di pretattica bravo ma straordinaria perché tu non sai mai chi va in campo cioè purtroppo poi alla fine secondo me c'è un'altra cosa cioè tu dicevi che cosa manca e che cosa non manca una caratteristica che forse manca a questa società è la seguente cioè quando c'è un mecenate un soggetto che alimenta economicamente una società molto spesso tu corri il rischio che questa persona viene talmente attirata dal giocattolo per cui devi tu frenarlo perché corri il rischio di andare sotto sopra in funzione dell'entusiasmo che questo mecenate immette nel giocattolo poi ci sono gli esempi opposti che per certi aspetti mi sembra essere il nostro cioè voglio dire io sicuramente vedo nell'ingegnere De Cesare una persona che veramente ha dato tanti soldi alla scandone però sicuramente non fa parte di quel mecenate che è stato preso dal giocattolo cioè è come se vivesse questo suo giocattolo con un certo distacco forse questo distacco questo non metterci sempre la faccia può giustificare che ci siano qualche mancanza qualche gestione un po' troppo anattica se ci fosse una proprietà che assolutamente non deve prevaricare quelli che sono i ruoli dei rispettivi professionisti che sono stati incaricati per il loro lavoro ma che fosse presente non solo da un punto di vista economico ma anche come immagine cioè come presenza come guardate ci sto io se dovete dire una cavolata non la dite perché eccetera sarebbe meglio secondo me la cosa che forse manca è questa qua poi secondo il mio punto di vista oh devi tenere sempre l'ultima parola no ma non abbiamo finito però abbiamo parlato rapidamente di Venezia 30 secondi si fa condizionare troppo da ma il non essere dentro da messaggi dipende da questo diciamo la dico questa pensaci bene c'è l'avvocato quando praticamente fu esonerato Valli Valli il 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 e mi venne così per conoscere allora io gli spiegai anche i motivi per cui Valli poi era stato costretto all'esonero cioè lui era stato costretto all'esonero cosa che poi perché lui poi è come persona secondo me è una persona che vuole mantenere le cose abbastanza ferme lo stato scuone lo stato scuone gli dispiace magari anche esatto anche umanamente diciamo allora io dice quale allenatore Pancotto poi mentre dicevo questa cosa ma che glielo dica a fare tanto lei dovrà prendere Tucci lui mi disse dovrà mettere Tucci lui mi chiese ma perché poi mi dice che dovrò farlo io le farò vedere che dovrà farlo prima che arrivasse Pancotto chi fu messo per un mese Tucci bravo che così come secondo me non doveva essere esonerato da noi in A2 non doveva essere promosso capo allenatore quell'anno insomma in quelle partite peraltro fece meno bene di Valli chiaramente era molto giovane la pressione ci sono momenti e momenti e situazioni e situazioni quindi e poi anche far sentire il controllo la pressione della proprietà il condizionamento diciamo geopolitico condiziona un po' nel bene e nel male nel bene e nel male insomma in qualche modo è pur vero che una proprietà peraltro così privata tra virgolette magari avvocato in 20 secondi un po' di controllo un po' di pressione insomma siamo in serie A professionisti ben pagati ci diceva il dottore secondo me non dico che chi sbaglia paga però insomma un minimo di perché se no è sempre troppo così come è negativo avere una proprietà che si faccia troppo prendere dall'entusiasmo e possa andare molto al di là di quelle che sono le possibilità economiche di una società secondo me è altrettanto negativo una proprietà la quale senza far mancare nulla alla società dal punto di vista economico poi la vive fisicamente con un certo distacco io gradirei secondo me nell'interesse di tutti che ci fosse una presenza che già la presenza incute né destinatari un rispetto è indispensabile è indispensabile ma se non lui insomma qualcuno per lui in qualche modo lui è quello the money man mister money dicono che giocatore Middleton mi pare ma tutti tutti gli americani insomma è il loro lavoro allora brevissimamente abbiamo chiaramente ispirato più nel secondo tempo ma ci sono i supplementari Massimo scusami direi che comincia la lunga volata verso i playoff non so se il dottor Sanfilippo è d'accordo dopo che abbiamo presentato lo starting five di Venezia direi che dal Taliercio e probabilmente anche da Pesaro la Scandone capirà se fu vera gloria le due vittorie in casa insomma è un bel test con o senza Fridloy con o senza Nichols quello di Domenica a Venezia forse può la vera prova del nome per capire quanto la Scandone è vicina a queste squadre il quintetto base della Reglier è già da paura Haynes e Stone che il loro mastino difensivo immagino si metta le calcagne di Sykes innanzitutto il cecchino Bramos Dei che in questa fase insomma non sta facendo granché Wot che ad oggi è il centro più incisivo del campionato a Milano ha dominato premagher italiano di grande garra come De Nicolao Cerella Tonut Biliga Mazzola insomma questi sì che sono italiani veri in panchina c'è De Raffaele e poi non entrano addirittura nei dieci della nostra vecchia ma bellissima grafica ai vari giuri lo sloveno Vidmar Washington si è fatto male ci ricorda il dottor Sanfilippo che sono addirittura sul mercato per un 3-4 che possa in qualche modo sostituire Washington e cambiare Dei uno staff tecnico ben consolidato un sistema un campo caldissimo si gioca alle 5 diretta su Aerosport Player ma anche diretta su Aerosport 2 per chi ha la piattaforma Sky quindi una partita chiaramente visibile in pillole è partita difficilissima insomma ho detto tanto io partita molto difficile francamente io non penso che l'assenza di Washington sia una cosa negativa per loro perché Washington che è un giocatore secondo me buono per certi livelli un po' confusionario in questo sistema qua sì secondo me sì sono d'accordo però diciamo di fatto ha giocato poco però è un mio voto di vedere la pallacanista ma logicamente è rilevante anche quando stava bene giocava poco però gli si ha uno spazio per prendere un altro che loro vogliono aggiungere penso per i doff certo certo vabbè ma ripeto loro come diceva Gianni prima hanno impostato diciamo da un po' di tempo queste tutte squadre che poi sono arrivate molto dopo di noi in Serie A non lo dimentichiamo perché io purtroppo forse ripeto sempre le stesse cose ma è la verità cioè Venezia è arrivata tanto tempo dopo e ha vinto uno scudetto Sassari è arrivato tanto tempo dopo di noi e ha vinto stiamo parlando di Sassari di Venezia non di Bologno di Trevisi insomma Sassari ha vinto scudetto Supercoppa Coppa Italia insomma ha vinto tante cose con me o Sacchetti Trento è arrivato comunque in finale una volta un pelino un tiro direi dallo scudetto esattamente con quella stoppata di Godeluk mi sento esattamente poi voglio dire tutte squadre che tutto sommato hanno dimostrato che in questa vacazio quando parla bene vacazio Juventina oserei dire lui è tifoso del Napoli lui è tifoso del Napoli può capire e quindi praticamente il martedì scorso il dottor Sanfilippo ha visto Juventus Atletico Madrid dal vivo è giusto? sì tanta roba e ha portato anche la moglie c'è capito cioè la tragedia pura so che soffri per questa cosa però e comunque velocemente non ti vaghiamo no non ti vaghiamo quindi voglio dire insomma in questo momento storico perché poi non è solo quest'anno ma pure negli anni scorsi di una leadership assoluta e di piazze che mancano alla palla a canestro secondo me così come gli altri hanno fatto Avellino può dire la sua e speriamo che la possa ancora che quest'anno sia la volta buona anche se noi ricordiamo sempre quel time out non chiamato contro Venezia anche se vale il discorso che ha detto l'avvocato Montella insomma tra vincere di un punto e perdere di un punto insomma non mi fermerei solo però la fu non mi fermerei solo al time out insomma io vado ancora prima vado a Green che gioca tante minuti e marca Filò in quella condizione con Logan in panchina e che più ne ha più ne mette insomma in quelle situazioni lì perché quando una proprietà ti prende Logan a marzo è chiaro che vuole vincere perché ha un quintetto base con Ragland Logan Thomas come fa Venezia che ora va sul mercato se poi non vince insomma con Milano fuori perché io l'ultima parola lasciamo all'avvocato così non si lamenta no no è giusto lei diceva che la scantone insomma può essere un po' la mina vaganda e sono d'accordo perché al completo si può accendere questa miccia insomma esplodere e siamo uno squadrone però tornando alla scelta del giocatore dello staff medico sembriamo una squadra però anche un po' locura un po' inclina all'infortunio sarà per età sarà per le recidive e lei sa bene che nei playoff 3 su 5 3 su 5 4 su 7 insomma Venezia e Milano Milano e Venezia dipendono un po' piuttosto ci vuole la salute si dice da peline e di salute noi che abbiamo una certa inclinazione a prendere un po' rutticini i playoff sono un campionato a parte ma non solo si può sognare proprio come sono fatti forse noi non abbiamo la squadra ideale da playoff erano per la squadra da coppa dal punto di vista fisico e secondo me ancora oggi a noi manca una dimensione rispetto a noi manca una dimensione nell'aria che non abbiamo dentro purtroppo non so ora l'ultimo acquisto eccetera però sicuramente nel discorso complessivo nelle caratteristiche che devi avere per raggiungere un certo tipo di risultato tu devi avere una fisicità e una costanza sotto il profilo del perdurare per tutto il tempo e devi avere una dimensione completa noi siamo fortissimi penso dal perimetro anche per certi aspetti come attaccare il canesso abbiamo un'alternativa che molti non hanno nella possibilità di giocare da 4 green che è una cosa estremamente importante però non abbiamo il centro che finisce praticamente non abbiamo noi ci ricordiamo i nostri anni in quell'asse play pivot che poi ci consentiva di aprire da fuori però al di là di tutto noi questa dimensione non l'abbiamo ora se abbiamo la capacità di poter in un campionato particolare come quello dei playoff riuscire ad andare avanti solo in questo modo siamo bravissimi poi arriveremo al turnover a breve al completo e vediamo chi lascia fuori l'allenatore insomma perché 6 stranieri possono giocare ma nel numero dei giocatori come dice lei mi fa capire che un po' come me lascerebbe fuori indiaie in certe partite avendo il lungo che non finisce perché un quintetto con Harper playmaker e Sykes guarda che fa uscire Filò riposato dalla panchina Nichols Iudano e Green diventa un quintetto piuttosto importante ed intrigante perché il centrone che domina se si giocasse solo dalla parte del campo sono d'accordo con te siccome c'è anche la difesa e la nostra squadra non è molto inclina è molto giocatore è di aiella dietro serve per e insomma ci vorrebbe il cambio come al football americano rischierebbe un po' di più silenzio che essendo un giocatore educato il nostro sistema di tira e di palloni purtroppo ne vede pochi pur essendo un bel giocatore però stiamo a guardare anche perché in quel ruolo con il rientro di Nichols siamo abbastanza pieni servirebbe un po' tutto i centri dominanti questo è un problema successivo è un problema di Vucinic a te che c'è questi problemi prima non si arrivava a 5 il poverino fin ad ora ha avuto il problema inverso quindi mi auguro che possa avere questo tipo di problema Vucinic che per essere un dirigente accompagnatore sta facendo come Sacripanti ecco ok no giusto numeri alla mano insomma campionato alla mano certamente bene ci dobbiamo chiaramente tra virgolette per me dirigente accompagnatore no per carità la bambina ciro è mangiare le natura allora ci fermiamo scusami Massimo abbiamo un po' sforato almeno la seconda parte spero siete stati bene è stato un bel amarcore abbiamo diviso il compleanno con te grazie che bellezza ti sei divertito è abbastanza molto si può me la rivedo con calma ma le risate spontanee poi hai capito perché noi vincevamo perché c'era lui che capiva di pallacanestro ma io direi tutti eh tutti anche gli altri dirigenti che sono passati lì e poi c'era veramente quell'affetto quella presenza costante insomma che la squadra in qualche modo quella era una famiglia vera vera con ruoli che ci eravamo dati quasi inventati insomma tu che fai meglio tu che fai meglio più o meno era un problema trovare quello che faceva meglio basta basta ok grazie al dottor Melotte Sanberippo in bocca al lupo grazie a te complimenti grazie a te di noi auguri con il quale è stato veramente un piacere grazie a Massimo Teccio in regia a Bombosiego con i nostri appuntamenti e naturalmente forza a Scandone arrivederci sempre arrivederci ciao ciao arrivederci ciao è finita è finita la Coppa Italia è di Avendino è finita 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 è finita